L'8 e il 9 marzo si è svolto a Roma, all'Antonianum, un convegno sulla gestione dei beni ecclesiastici, ecco una delle testimonianze che abbiamo raccolto. Penso che è molto importante perché come le persone anche a noi ci tocca quella ricchezza, non vogliamo avere le cose più belle, più grandi e così ogni tanto ci dobbiamo ricordare che tutto questo che abbiamo ricevuto non è nostro ma appartiene alla Chiesa e appartiene a quelli più poveri nella Chiesa.